Si sono concluse le operazioni di trasloco che durante il mese di ottobre hanno coinvolto numerosi uffici del comune di Pordenone. In particolare hanno cambiato sede gli uffici delle politiche sociali, ora in piazzetta Calderari, l'edilizia privata e pianificazione, ora in via Bertossi, l'informa giovani, il progetto giovani e i servizi all'infanzia, ora in piazza della Motta, l'ufficio elettorale, i servizi cimiteriali e le onoranze funebri, ora nel palazzo municipale, l'assessore comunale Renzo Mazzer. In questa settimana abbiamo concluso alcuni trasferimenti che riguardavano gli uffici, il più importante di tutti, il trasferimento dei servizi sociali e delle competenze dell'ambito socioassistenziale da via San Quirino a piazzetta Calderari presso Palazzo Crimini. Tutto questo è la conseguenza di tutta una serie di cambiamenti che abbiamo attuato e che darà la possibilità di organizzare tutte le competenze del comune in volumi, in edifici, in maniera che siano più sinergici possibili. Faccio il piccolo esempio di via Bertossi dove è riunito tutto il settore che si occupa del territorio, dall'ambiente all'urbanistica, all'edilizia privata e quella pubblica, i lavori pubblici. Così come nell'ex convento San Francesco abbiamo unificato tutto il settore che si occupa di cultura e di educazione, compresi gli asili nido. Significa avere un dirigente con la propria filiera di comando, tutta al di sotto, tale da consentire le maggiori sinergie fra le varie scrivanie che lavorano più attaccate e non più distanti nei vari edifici. Questo ci permette anche alcuni spostamenti che abbiamo fatto nella sede principale di Piazzetta Calderari e ci consente anche di fare questo progetto di cui abbiamo sentito parlare in passato di sportello al cittadino. Significa che il cittadino che ha bisogno di certificati, di ufficio tributi, avrà un'unica sede dove ricarsi, ma una sede che sarà attrezzata in maniera moderna, molto più confortevole, per non avere code, per non avere disagi che qualche volta l'utente è costretto ad affrontare.